molto importante perché siamo qua a parlare, facciamo una diretta diciamo così straordinaria in quanto parliamo di quelle che sono delle turbulenze sui mercati finanziari, ok? Andiamo a vedere un attimino che cosa sta succedendo sui mercati, che cosa capita, le motivazioni di questi storni, avete visto che sicuramente sui mercati finanziari avete sentito sui telegiornali, avete visto che ci sono una serie di problematiche, il petrolio, l'inflazione e tutto il resto e quindi andiamo a vedere un attimino come andare ad intervenire, se è il momento di scappare, se è il momento di accumulare, se è il momento buono per comprare, se è il momento invece di fuggire, come arrivare a creare una gestione determinante in questo momento perché come sempre chi ci segue da anni in diretta lo diciamo sempre, è la gestione che fa la differenza e adesso si vede, avete visto la nostra gestione nel corso degli anni, è sempre stata straordinaria proprio in questi momenti e in questo momento si vede come la gestione di altre situazioni, la gestione delle solite cose, abbiamo parlato la settimana scorsa proprio dei 12 elementi assoluti che deve seguire un investitore e abbiamo visto la settimana scorsa una cosa molto importante perché abbiamo visto che noi viviamo sempre quella strategia dei titoli buoni, ok? In questo momento i titoli buoni non ci sono più, nessun titolo è buono in questo momento, ok? Per cui la strategia di copiare, fammi sentire qualcuno che vi dà il titolo buono, il titolo buono adesso non c'è più. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa e guardate caso oggi, in questi giorni si è verificato esattamente, si è verificato quello che poi un po' avevamo predeterminato, ecco e quindi è una cosa importante. Allora, chi siamo? Perché siamo qua, lo sapete noi siamo qua perché vogliamo raggiungere il pensionamento in maniera autofinanziata, io sono Massimiliano Nacerra e sono colui che in parte ha portato un po' in Italia questo nuovo concetto, quindi autofinanziarsi in un termine preciso la propria pensione, quindi utilizzare il proprio lavoro, la propria vena d'oro per un periodo delimitato di tempo, come già facciamo in realtà, ok? Noi già cerchiamo di utilizzare i nostri 45-50 anni di lavoro, una vita intera per poi goderci quei pochi anni che ci danno, ok? Quindi sfruttiamo il lavoro per arrivare a un risultato. Noi cerchiamo di fare una cosa più o meno similare ma arrivare in pochi anni, quindi sfruttare questa vena d'oro per pochi anni e in quei pochi anni autofinanziarci quello che ci serve per vivere in via successiva. Chiaramente stavo dicendo appunto per chi non mi conosce, appunto sono Massimiliano Nacerra, quello che un po' ha portato in Italia questa concettualità, questo nuovo concetto e sono anche colui che ha portato in Italia quelli che sono poi i programmi specializzati, io poi sono una serie di persone che hanno seguito, adesso vedrete un attimino, e abbiamo creato una struttura molto molto importante, specializzata, una struttura di eccellenza che porta le persone a raggiungere questi risultati in maniera costante, in maniera serena, in maniera tranquilla, in un tempo determinato. Quindi in pensione prima e con più soldi in maniera autonoma, la pensione quando vuoi tu, ok? E' anche il famoso, il titolo di un famoso libro. E chiaramente i mercati finanziari sono una parte importante, come se tu, i mercati finanziari sono una parte importante sempre, non sono una parte importante relativamente ai nostri investimenti, ma sono una parte importante per tutto, perché se uno dice, io non investo in mercati finanziari, investo in mobili, eh ma i mercati finanziari contano, perché anche se investi in immobili, i mercati finanziari spostano le sorti del mercato immobiliare, ok? Dei prezzi, dei prezzi al consumo spostano le sorti dei prezzi delle ristrutturazioni, delle materie prime che servono per arrivare a questo. I mercati finanziari spostano le sorti di qualsiasi cosa che è inerente a un'economia, a un guadagno, a un lavoro nel corso di tutta la nostra vita, per cui dobbiamo imparare, diciamo così, a seguirli e a capirli, ok? Chiunque poi segue un piano di pensionamento che lo facesse, ad esempio, con l'assicurazione, fa la pensione complementare con i piani assicurativi, i piani delle assicurazioni, che cosa fa? Segue sempre i mercati, anche se non li vede, questa è un po' la differenza, non li vede ma li sta seguendo, perché l'assicurazione che cosa fa? Crea un fondo pensione investendo, diciamo, i capitali di questo fondo pensione all'interno di una serie di titoli e una linea che il cliente è scelto, quindi una linea più spinta, una linea meno spinta. Poi c'è una differenza che siccome non li vedi, ti interessi quando arriverà alla fine, solitamente arrivi alla fine che non hai guadagnato niente, ti hanno mangiato tutte le spese e sarai scontento, cioè vai guadagnato giusto quello che lo Stato ti rende come credito d'imposta, ok? Qua la differenza che c'è, che è quella che noi ci autofinanziamo sul nostro conto, arriviamo molto prima con molti più soldi, con dei capitali che restano nostri, invece la pensione muore insieme a te, sia quella dell'Inps sia quella dello Stato, muore insieme a te, qua diventa tutto nostro, il grande capitale che crei resta tuo, resta della tua famiglia, i tuoi discendenti, il sistema di pensione, quindi il grande capitale che genera duemila, tremila, quello che vuoi al mese, lo lasci ai tuoi eredi. Lato negativo è sul tuo, lato negativo, l'altro lato positivo è sul tuo conto, lato negativo è sul tuo conto, perché è un lato negativo? Perché lo vedi, perché lo guardi. In questo momento qualcuno guarda e diventa epilettico, no? Mentre invece la stessa cosa che è l'assicurazione in questo momento non ci pensi. Perché? Perché l'assicurazione non te lo fa vedere e tu non telefoni la mattutti giorni all'operatore per sapere come va, ok? Per cui inevitabilmente diciamo che quello che non dovresti vedere non lo vedi. Sul tuo conto hai grandi vantaggi, ma diciamo c'è uno svantaggio che è quello che tu guardi e guardando vieni preso da una tensione relativamente a, quello che sta capitando, semmai, in una settimana, in due settimane, in tre settimane, semmai relativamente a un piano che poi devi ritirare tra vent'anni e per cui quello che succede in una settimana o in due settimane in realtà non dovrebbe interessarti nemmeno. Questa è una cosa molto molto importante. Allora, andiamo a vedere un pochino, qualcuno ci sembra un bel crollo. Allora, vediamo un attimino quello che può sembrare. Ciao a tutti i ragazzi, intanto Giovanni, Serena, Fabrizio, Piero, Michele, Alessi, siamo tantissimi stasera, ok? Allora, andiamo a vedere, andiamo a vedere, partiamo con la nostra solita carrellata e andiamo proprio a vedere come muoversi. Allora, questa è una serata dedicata a come gestire questo momento. Sicuramente molti di voi hanno dei capitali investiti in privato, qualcuno segue i nostri fondi di pensionamento e vorrà sapere un attimino come uscirne bene, come gestire al meglio. È il momento di capire, di focalizzare e di capire veramente come si può riuscire ad ottimizzare i risultati. Mi sembra un pochino, quando stavo preparando questa diretta di stasera, mi sembra di tornare un pochino, guarda voi, ok? Mi sembra di tornare un attimino alle dirette che le trovate tutte su YouTube, su Facebook, le trovate tutte ancora lì. Le dirette che facevamo a febbraio e marzo di due anni fa, quindi durante la pandemia. Il lunedì sera, che c'era un po' di panico nelle persone dei ragazzi, è il momento di comprare. Come di comprare? Ma che sei pazzo? Ma qui si perde? Ecco, mi ricordo ancora questa. Adesso vedremo, stasera è un momento di comprare. Vediamo, stasera valutiamo un attimino il momento insieme, ok? Allora, andiamo a fare la nostra solita condivisione di schermo, dove andiamo a valutare un attimino. Ah, i nostri contesti, eccoli qua, bene così. Allora, andiamo a vedere la nostra presentazione, che ho preparato un po' di cosettine per stasera, ok? Ho preparato un po' di cosettine per stasera, quindi state fino in fondo perché è molto importante. Andiamo a vedere veramente come che sia il momento, ma un po' per tutti, ok? Allora, come sempre, non possono mancare, sia quando le cose vanno bene, sia quando le cose vanno male, sono i nostri mantra di vita, le dieci regole del patto MIPI per il pensionamento dipendente, ma sono dieci regole che valgono per tutto, compreso gli investimenti, compresa la vita privata, compreso tutto. Regola uno, prendi in mano tu la tua vita e il tuo futuro. Nessuno può farlo meglio di te, funzionale a te, così come vuoi te. Regola due, riparti adesso, senza esitazione, qualsiasi sia la tua condizione attuale. Regola tre, sfrutta la vena d'oro che hai già a disposizione, comprendila, ampliala con la tua nuova conoscenza e con il sistema MIPI. Regola quattro, non svuotare tutto il sacco quando è pieno. Sempre, in ogni caso, tu sei sempre il primo obiettivo. Impara a minimalizzare, a semplificare, impara a vivere con la vera essenza, o meglio con l'essenziale della tua vita. Impara le semplici regole storiche ed universali per moltiplicare esponenzialmente i tuoi beni. E questa è una cosa molto importante. Come? Le due regole che riguardano un po' la crescita sui mercati su una regola cinque, la regola sei, regola sei, proteggi il tuo futuro, deve essere sicuro nei metodi, negli strumenti, nella filosofia, sempre. Regola sette, allinea te stesso in tutti i campi e ritrova ancora la tua vita essenza fuori dai condizionamenti di massa per vivere davvero. Regola otto, TMA, sempre sfruttiamo la leva del tempo e il tempo deve passare, ricordiamoci, il tempo non si intende un giorno o una settimana. Ok, tempo, metodo e obiettivo. E stasera parleremo molto della regola otto, sai? Tempo, metodo, obiettivo. Regola nove, non smettere mai, persegui la costanza e mai la velocità. Mi sa che stasera parleremo molto anche della regola nove. Così come parliamo sempre della regola dieci, non fare mai niente che vada in contrapposizione ai punti precedenti e sarà un bel vivere. Allora la nostra mission è quella di creare una grande comunità di persone che seguono insieme l'organizzazione della propria vita con un programma finanziario autonomo in libertà. Per seguire la libertà sotto uniforma, per essere liberi di vivere la vita vera quando, dove vogliamo noi e all'età che vogliamo. Ok? Essere liberi e protetti dal nostro fondo pensione, contro ogni avvenimento che può avvenire nella vita, per proteggere il nostro futuro e quello delle nostre famiglie. Vogliamo portare nel mondo la consapevolezza che siamo noi a poter cambiare e gestire il nostro destino e il nostro futuro. Siamo noi gli attori protagonisti sempre e ovunque. Allora, una carrellata veloce ai nostri programmi. È iniziata la nostra Master School per chi fa investimenti di breve, brevissimo termine e in questi giorni c'è da divertirsi. Ci vediamo venerdì 28 gennaio. Mercati aperti dalle 9 alle 11 la mattina. Sarà una bella sfida. Chiaramente per i partecipanti alla Master School One Time Week. Allora, molto importante, chiunque c'è la replica, chiunque non l'ha visto, chiunque ha degli amici, chiunque vuole rivederlo, chiunque è qua per la prima volta, corso Mipaistart per capire come, perché, quando e in che maniera creare il fondo pensione in maniera completamente autonoma per andare in pensione prima e con più soldi in maniera completamente autofinanziata, come ho fatto io, come fanno tutti gli allenatori, come fanno le persone che seguono questo programma. 8 febbraio, ancora il corso Mipa i Trai. Qua andiamo a vedere proprio come si crea il fondo pensione da soli, senza l'assicurazione, senza la banca, senza di niente. Come si crea in maniera semplice, immediata, con risultati molto migliori, spese ridotte a zero e prendiamo tutto noi, non lasciamo niente a nessuno. Allora, i nostri programmi, ricordiamo presto il workshop Mipa i Money, che lanceremo a breve per tutti gli iscritti al Mipa i, Mipa Investment, per azzeccare sempre gli investimenti giusti e non farsi fregare da situazioni semmai non controllate che conosciamo meno. Allora, le piattaforme dei nostri percorsi nuovissimi sono in via di allestimento, dovrebbe uscire da Dremo Notizia, ma siamo veramente agli ultimissimi lavori e saranno delle piattaforme completamente nuove con dei programmi, vari basic, basic plus, premium, professional, ben conoscete, ci saranno veramente dei miglioramenti in maniera veramente corposa e nuovi tutorial, nuove cose veramente molto molto belle. A tra pochissimo, nuovi workshop proprio degli iscritti in Mipa i e nuove dirette live, ne vedremo a breve, saranno un po' più questa sera, abbiamo fatto una diretta straordinaria, altrimenti molto iniziava già stasera il nuovo programma, più corpose, faremo un po' delle interviste su vari temi, ci sarò anch'io intervistato da voi, quindi molto importante, su YouTube segui il percorso dal dipendente a indipendente perché parliamo molto di queste cose, di come organizzare meglio la propria vita. Tratti dal libro Diventa milionario partendo dal dipendente. Nella pagina eventi rivedete tutti gli eventi, e siamo pronti, siamo pronti. Allora, potevi fino a ieri diventare un allenatore del Mipa i, le iscrizioni sono chiuse, quindi le selezioni sono chiuse ieri sera, per cui chi ha avuto avuto, chi ha dato dato, da questo, da oggi e da domani più o meno iniziano poi, iniziano, non sarò io a fare, inizia un po' lo staff del Mipa e fare un po' di selezione, a vedere, a valutare un pochino tutte le male, siete stati in tanti a candidarvi, quindi bene, bene, vi aspettiamo, vi aspettiamo tra noi, vedremo un attimino, le candidature andranno anche in base a una serie di parametri che sono interessanti anche per noi. Puoi sempre collaborare con il Mipa come fonte esterna, se hai esperienze di editor, scrittura blog, montaggi video, copy, scrittura, scrittura per blog, scrittura per vendita, eccetera, eccetera, quindi puoi sempre collaborare con noi. Se ancora non hai fatto un piano di pensionamento, ragazzi, è inutile perdere tempo, fallo subito perché prima lo fai e prima arriva. Ragazzi, turbulenze sui mercati finanziari, come gestire il momento? Comprare o scappare? Eh ragazzi, questa è una bella domanda, comprare o scappare? Fermi lì, fermi lì che voglio andare a vedere due cosettine sulle domande. Allora, potete scrivere i codici, avete scritto solo domande, ok, benissimo. Allora, da poco tempo... Allora, allora, andiamo a vedere, andiamo a vedere, vedete, sono una serie di domande, stasera capiremo in base a una serie di parametri, intanto dobbiamo fare un'analisi, ok? Iniziamo facendo un'analisi, poi andiamo a vedere, diciamo, il materiale che ho preparato per questa sera, ok? Intanto, mentre parlavo, i mercati stavano andando giù in maniera piuttosto consistente e vedo che invece adesso si sono rimangiate, in particolare il mercato americano, si è rimangiato. Oggi c'erano degli appoggi molto importanti, c'erano degli appoggi molto molto interessanti e andiamo a vedere proprio, stavo proprio monitorando questi appoggi e andiamo a vedere gli appoggi che ho visto oggi, che mi interessa dimostrarvi. Eccoli qua, ok, andiamo a vedere... Ok, togliamo questa condivisione, ne mettiamo un'altra. Ok, finestra. Ecco. Andiamo a vedere l'indice SP500. Prima che iniziassi la diretta, questo indice era sostanzialmente, come vedi, stava andando giù e stava rompendo questo appoggio molto molto interessante. Diciamo che su questo appoggio il mercato ha rimbalzato un pochino e ha deciso di riprendere una parte. Diciamo che è ancora in negativo la giornata, ma diciamo che questa situazione che si sta verificando è una situazione interessante. Oggi è andata molto sotto, appena sono scesi un attimino questi livelli, c'è stato un po' di panico e poi dopo però il mercato in questo momento sta recuperando in maniera molto forte, molto forte, per cui interessante, ok? Interessante. Allora, questo è un appoggio molto interessante sui 4.300 punti, come abbiamo detto, il livello che stavamo attenzionando già prima dei 4.500 punti che ha ruoto in maniera decisa, questo era un livello interessante che ci interessava di valutare. Vediamo se in questo momento sarà un ritorno di forza o sarà un ritorno semplice, non sarà un ritorno di forza ma sarà un ritorno con poca forza o sarà semplicemente uno storno del periodo di basso con una ripartenza al ribasso. Vediamo un attimino, vediamo questi livelli. sicuramente i mercati hanno corso tanto perché il mercato sta scendendo, il mercato sta scendendo perché ha corso tanto, motivo numero uno, perché ha corso tanto, ok? Poi c'è l'inflazione, c'è un aumento dei prezzi che quindi vanno a mettere un po' in difficoltà l'economia a livello mondiale, inevitabilmente l'aumento delle materie prime porta delle difficoltà a una serie di aziende che riducono chiaramente i loro margini a livello di vendita e quindi i loro prezzi potrebbero essere i prezzi che scontano in questo momento sui mercati, i prezzi di queste aziende potrebbero essere un po' sopravvalutati per cui inevitabilmente c'è un ritracciamento e questo non è altro poi che il pretesto per una serie di persone che hanno fatto grandi guadagni, una serie di persone, tanti operatori del mercato che hanno fatto grandi guadagni nel corso dello scorso anno che stanno inevitabilmente una volta che vedono che i mercati scendono in maniera molto più corposa, si buttano dietro all'onda e vendono dietro, ok? Quindi si trovano in una situazione del genere. Molto importante, molto importante andare a fare una valutazione di tutto questo e vedere il mercato come si comporterà in questo momento, ok? Diciamo che nelle parti dove il mercato ha ripreso forza, fino a questo momento, vedete qua, c'era aveva ripreso forza e poi è stata una continuazione dello storno, qui ha ripreso forza, è stata una continuazione dello storno, vedremo questa forza che sta mettendo adesso se porterà ad un'ulteriore discesa e chiaramente se c'è un ulteriore discesa andremo a vedere come si può gestire al meglio la situazione. Andiamo a vedere un'altra condivisione insieme, andiamo a vedere quello che è il mercato, eccolo qua, che sta più o meno muovendosi alla stessa maniera, quello che è invece l'indice tecnologico che ha preso una scopola un pochino maggiore, ok? Vediamo, eccolo lì, ha preso una scopola un pochino maggiore, qua c'era da conteggiare questi, allora, stavo guardando una cosettina qua perché questi mille punti di questo ritracciamento e poco più li stagli ha chiusi proprio da questa parte. Anche qua il mercato è andato sotto, questo è il Nasdaq è andato sotto a questi livelli, ha aperto molto basso, adesso sta chiudendo nella parte alta con discreti volumi, ok? Quindi potrebbe essere interessante vedere se vada a ricoprire un attimino questa parte ma chiaramente quello che succede oggi, quindi questo appoggio, questa ripartenza immediata, quello che succede oggi, ci farà capire qualcosa di più soprattutto nei prossimi giorni. Allora, le turbulenze sicuramente, non so, anche se fossero finite per qualche giorno, ce le porteremo avanti per un po', l'abbiamo parlato, a novembre dissi più o meno, non credo che a dicembre ci siano determinati tipi di chi segue le dirette, avevo detto non penso che ci saranno chissà quali storni a dicembre, qualche storno c'è stato ma non è stato di grande consistenza, dissi al tempo ecco a gennaio piuttosto mi aspetto che, sai com'è, vita, anno nuovo, vita nuova, è come se quell'alchimia che si è creata in determinato anno poi dopo viene un po' meno nell'anno successivo quindi mi aspettavo che se qualcosa ci doveva essere, poteva essere a gennaio. Non mi aspettavo una velocità del genere, questo sì, ma una velocità del genere può essere molto molto, vedo che i mercati adesso si muovono con un determinato tipo di velocità. La velocità è una cosa molto importante, va a nostro favore, gli storni veloci vanno molto a nostro favore, molto meglio degli storni che sono piccoli, piccoli ma continuativi che durano un anno, due anni, come nel 2008, 2009 e tutto il resto, gli storni da volta erano a piccoli passi ma continuativi per un anno, un anno e mezzo, due anni, due anni e mezzo, quindi continuavano veramente per un tempo indefinito. Bene, siamo tantissimi ragazzi stasera. E quindi gli storni veloci servono, sono funzionali per noi e gli storni sono molto importanti, è opportuno che ci siano. Lo storno ci deve essere, lo storno ci deve essere perché è un mercato che cresce sempre, è un mercato saturato, è un mercato che non va bene, che non va bene per noi, perché è un mercato che poi è quando ha tirato troppo, appena finisce il fiato va giù in maniera più veloce, ok? Il mercato dell'anno scorso è un mercato che ci ha dato tantissime soddisfazioni, va benissimo, ma che adesso, inevitabilmente, è bene che abbia un determinato tipo di ritracciamento per cui sconta già all'inizio una serie di notizie brutte che potrebbero esserci nel corso dell'anno, come l'aumento dell'inflazione, come l'aumento dei tassi di interesse, addirittura più di un aumento, se ne parla di tre o quattro. Quindi si parla di tutte queste cose e quindi il mercato va già a scontare, significa che quando queste notizie arriveranno, molto probabilmente il mercato avrà già scontato quelle che possono essere le conseguenze negative nel futuro. Per cui un ritracciamento è molto interessante e nel corso del tempo chi ci segue da tanto, chi ha una buona gestione, sa che questi sono i momenti dove i risultati spesso arrivano in maniera interessante. Questo livello dell'indice Nasdaq è un livello molto importante per quanto riguarda questa andatura un po' lateralizzata che si è creata comunque a partire da più o meno l'estate scorsa e quindi vedremo un attimino adesso che cosa avviene su questo livello, ok? Quindi siamo pronti a dare un'occhiata. Andiamo a vedere sul programma cosa voglio dirvi in base a questo. Quindi andiamo adesso a vedere, ragazzi restate fino in fondo a questa diretta perché qua cerchiamo di dare proprio delle indicazioni per tutti, per tutti, per tutti elementi, per tutti i portafogli, per tutte le persone, per tutti coloro che poi vogliono comunque stare sereni e stare sereni con i propri investimenti, ok? E continuare in serenità a tenere una crescita a fronte anche, avere una crescita ma anche a fronte di una congrua protezione. Prima di questo c'è da vedere una serie di elementi che devi aver messo in atto nella tua strategia di investimento, ok? Eccoci qua, andiamo a dare un'occhiata, riprendiamo, ok? Riprendiamo il programma dopo aver fatto questa analisi e andiamo a vedere. Gestire il momento, comprare o scappare? Andiamo a vedere un pochino insieme. Bisogna valutare quando fai un investimento o se hai già fatto un investimento un'alcuna serie di elementi di partenza. Domanda fatidica, ok? Fermi. Per cosa hai investito? Ok? Perché una persona che non mi sa rispondere a questa domanda... Tanto per stare anche molto calmi sui mercati ci vuole una bella tisana, liquidizia e camomilla, così c'è quel misto di un po' ti tira su, un po' ti metti tranquillo che dopo vai a dormire bene, anche con i mercati in turbolenza. Allora, per cosa hai investito? Qual era o qual è il tuo obiettivo finale? Ok? C'è un obiettivo finale? Oppure così? Vediamo un po'. Hai investito per, ad esempio, un lungo termine? Prendi titoli per il lungo termine perché te li vuoi tenere, vuoi fare il cassettista per il lungo termine? Sì, ok? Ma c'è un metodo. Hai investito per il breve termine, quindi vuoi fare proprio delle compravendite, semmai comprare e vendere in un tempo di tot mesi? hai investito per la pensione, hai fatto un fondo per il pensionamento che molto probabilmente ti deve accompagnare per tutta la vita? Allora, in questo caso, c'è un altro tipo di andamento, ci sono altre cose da guardare rispetto agli altri due, ok? Perché uno potrebbe dire, ma guadagno, no? Perché le persone fanno il rapporto del rendimento, no? Sto guadagnando, no? Guadagno, non guadagno? Sì, no? Faccio più o meno? Un attimo. In base a quello che è, al motivo per cui hai investito, a quello che è il tuo obiettivo finale, in base a quello che tu vuoi raggiungere, allora bisogna guardare dei parametri diversi e gestire in maniera diversa. Vuoi fare un guadagno immediato? Beh, allora cambia completamente il parametro e cambiano completamente le cose che devi guardare e cambia completamente il metodo che devi mettere in atto, ok? Andiamo a vedere, per dare anche una mano alle persone, per fare che se tante persone non ci sono poste questa domanda e sono sicuro che chiunque si muove e fa degli investimenti è partito senza avere delle risposte a queste domande, senza avere degli obiettivi di questo genere qua, togliendo quelli che fanno i nostri percorsi e seguono insieme a noi, è giusto che finalmente si abbia una cognizione di questo e si possa partire. Andiamo a vedere bene come gestire la situazione in tutti questi casi specifici. Allora, è importante sapere un altro elemento di partenza, ok? Che linea di investimento hai scelto? Hai scelto una linea che è rapportata alla tua esigenza, quindi di grande crescita, ma anche rapportata alla tua emotività? Oppure hai investito, perché hai visto che l'altro guadagnano e tu sei l'unico imbecille che non guadagna? Quindi hai investito per questo? Hai visto che tutti fanno tanti soldi con gli strumenti quelli più buoni, i famosi titoli buoni, quindi hai voluto anche te i titoli buoni, però senza pensare al fatto che poi in determinati momenti questi titoli buoni non fossero idonei alla tua emotività e alla tua paura? Quindi che linea hai? Hai una linea che è rapportata con la tua volontà di crescita e la tua volontà di protezione? È una linea che è rapportata? Ecco, questa è una domanda che io ti faccio, ma io non ho la risposta, io so quello che faccio io. Quello che fai tu è la risposta a questa domanda. Vediamo se è rapportata a tutto questo, o forse adesso che vedi stornare in mercato, no ma forse avevo sbagliato. Ah, guarda, però non bisogna aspettare che il mercato storni per capirlo, ok? Noi ne parliamo in maniera molto chiara alle persone, per far comprendere questo. Se vuoi una linea, in quanto tempo vanno raggiunto puoi avere una linea che corre un po' di più per un determinato periodo. Ma adesso andiamo a vedere le chicche sulla gestione. Che cosa fare adesso? In base a tutte queste serie di elementi. Allora, che metodo utilizzi? E qui, diciamo così, un po' casca l'asino, eh? Che metodo utilizzi per questi tipi di investimenti? Massimizza, è un metodo che massimizza i risultati, ma protegge in determinati momenti. Quindi è un metodo che, quindi, quando è il momento di avere risultati, massimizza, quando è il momento di proteggere, protegge, o forse mi butto finché il vento tira, poi scappo, mi ributto, poi speriamo che sono una zattera in avalia e speriamo che il vento si dia a favore, ok? Che metodo utilizzi? Hai strumenti idoni al metodo? Eventualmente se hai un metodo, ci hai messo dentro degli strumenti che siano idoni a questo metodo, perché utilizzi un metodo e puoi utilizzare degli etf, è vero che puoi utilizzare delle azioni, puoi utilizzare delle obbligazioni, ma c'è un metodo che è rapportato a questi tipi di strumenti, perché è molto importante vedere che metodo utilizzi, oppure investi in criptovalute? Beh, allora, molto ovviamente il metodo che utilizzi è rapportato per le criptovalute, faccio l'esempio, oppure non hai un metodo di viaggio a vista, ecco, questa è una cosa molto importante per tutti coloro che si muovono un po' col fai da te sul mercato, andiamo a vedere adesso proprio come prendere ogni singola eventualità e andarla a andare a cercare la struttura migliore per ognuno di voi, ok? Ognuna di queste motivazioni necessita di una condotta diversa nella gestione. Il metodo buono, non ci sono i titoli buoni e non c'è il metodo buono, c'è un metodo di gestione in base ai titoli che scegli, in base alla linea che scegli e in base all'obiettivo che hai. Ripeto ancora, vuoi fare il guadagno di breve termine? C'è un metodo che non c'entra niente col metodo di lungo termine, che non c'entra niente col metodo che utilizziamo per la pensione e si guardano dei parametri diversi alla fine, di risultato, dei parametri completamente diversi. Quindi ci vuole una condotta diversa nella gestione, così come un diverso metodo per ognuna di queste situazioni. Adesso, bello, proprio perché vi ho detto ragazzi non mancate in questa serata perché andiamo a vedere insieme ognuno di questi, andiamo a vedere come se ognuno di voi, sicuramente ognuno di voi sarà in questa cerchia e andiamo a vedere ognuno di voi come può andare a gestire al meglio la situazione. Allora, valutiamole singolarmente. Allora, investi nel lungo termine, benissimo, allora, se investi nel lungo termine vuol dire che hai comprato dei titoli, se hai comprato dei titoli, degli etf, hai comprato delle azioni, cioè un portafoglio di azioni, un portafoglio misto, quello che vuoi, ok? Però investi nel lungo termine, ok? Il tuo intento è quello di crearti una crescita e di gestire nel lungo termine. Benissimo, allora, in lungo termine se hai dei titoli singoli, devi iniziare intanto a chiederti qual è l'obiettivo? Tenerli sempre, ok, anche qua nel lungo termine bisogna vedere che titolo hai inserito all'interno, se hai inserito dei titoli azionari, è giusto tenerli finché il cavallo continua a tirare bene, finché ci sono degli utili di un certo tipo, finché non ci sono problematiche di un certo tipo. Se all'interno non ci sono titoli azionari, ma c'è panieri tipo etf, titoli azionari, che per certe condizioni e per determinati soggetti più neofiti sono le cose migliori, anche qua investi nel lungo termine, ma qual è l'obiettivo? Perché se l'obiettivo è fare un guadagno nel lungo termine bisogna mettere in atto un determinato tipo di gestione in questo momento, ok? Potrebbe essere interessante in determinati momenti, quando il mercato si rimangia una serie di guadagni che ci ha portato, potrebbe essere interessante iniziare a tirare via o meglio ridurre queste quote nel caso del lungo termine, ok? Perché? Perché bisogna scattare anche una protezione e avremo tutto il tempo per ritornare all'interno del mercato. Investiamo per caso nel breve termine? Beh, allora un attimino, il metodo è totalmente diverso. Nel breve termine, beh, significa che in questo momento potresti aver raggiunto degli utili e moltomente io penso e spero per te che tu li abbia già venduti, li abbia già liquidati, ok? Oppure investi nel breve termine, stai investendo nel breve termine sfruttando i ribassi del mercato, bene, allora sai benissimo che il tuo orizzonte temporale è molto stretto e quindi serve un metodo completamente diverso per gestire, chiaramente è anche il risultato diverso che vai a vedere. Chi investe nel lungo termine solitamente va sempre a vedere il guadagno rapportato nel tempo, va sempre a vedere quanto sta guadagnando il titolo, ok? Nel breve termine non vado neanche più a vedere quanto sta guadagnando il titolo, ma la plusvalenza che faccio da ogni compravendita, ok? Benissimo, questo ho comprato venduto, ho fatto questo, quest'altro ho comprato venduto, ho fatto quest'altro. Quindi come vedi anche l'orizzonte finale, l'obiettivo finale, il risultato finale cambia completamente tra i tuoi tipi di investimento, ok? Terzo, sto creando un fondo pensione? Beh allora vi dico subito cambia tutto. Chi ci segue da anni l'ha capito? Chi ci segue da un po' meno tempo lo sta capendo, chi ci segue da poco tempo, lo deve capire, ma cambia tutto. Qua l'intento è arrivare a un obiettivo che ci siamo prefissati. Noi ci siamo prefissati un obiettivo chi ha dieci anni, chi ha sette, chi ha dodici, chi ha quindici, chi ha cinque anni, ok? Dipende, ci siamo prefissati un obiettivo di raggiungimento di un risultato, ok? Il fondo è un mezzo attraverso il quale vogliamo arrivare con determinati tipi risultati e un determinato tipo di gestione a raggiungere quel determinato montante, quella determinata capitalizzazione che ci permetterà di andare a fare dei prelievi graduali sul mercato, andare a provare a prendere, a prelevare dei soldi che ci servono per vivere tranquillamente, ok? Solitamente il fondo pensione si utilizza una strategia, una linea più aggressiva nei primi anni e una linea un pochino più serena e tranquilla quando siamo vicini e poi quando abbiamo raggiunto l'obiettivo del montante andiamo a ridurre le esposizioni in modo che situazioni come quelle di questi giorni incidono molto poco sul nostro portafoglio perché è un portafoglio con un quoziente di titoli protettivi tipo le obbligazioni, tipo i titoli di stato che sono molto più protettivi, il quoziente azionale è molto più basso e incide relativamente sia quando sale che quando scende, incide in maniera relativa, ok? Quindi questa è la strategia di pensione. Quindi la strategia di pensione chiaramente è un po' l'esempio che ho fatto prima. Con la strategia di pensione io non sto a telefonare tutti i giorni al a quello del fondo pensione dell'assicurazione per sapere come va, anche perché all'assicurazione non ti dicono nulla, non lo sai nemmeno, te ne accorgi ormai che tardi, ok? Quindi se hai una strategia di pensione in realtà quello che succede in due settimane o in tre settimane non ti interessa, non ti interessa per niente, ti può interessare se hai un investimento di lungo termine, che è diverso. Se hai una strategia di pensione ti interessa molto di meno ma ecco la parte che devi andare a guardare, perché prima abbiamo detto non solo ti interessa quello che stai facendo ma ti interessa quello che è l'obiettivo finale e quello che devi andare a guardare mentre negli altri, nell'investimento di lungo termine vai a guardare il risultato, il risultato, beh ho messo i soldi dieci anni fa, ho fatto più cinque, ok? Ho fatto più, ecco ok, questo è il risultato che andiamo a vedere, nel breve termine questo risultato non ci interessa perché prendiamo solamente la prosvalenza della compravendita, nella pensione non si guarda nessuno dei due casi, nella pensione si guarda la media composta, visto che con la pensione noi non vendiamo mai il fondo, o meglio lo gestiamo e quindi ci interessa la media composta che questo fondo ha creato nel tempo. Guardando la media composta significa che quando il mercato scende, significa che la mia media composta che creo nel corso degli anni è una media che diventa un pochino assottigliata, quando il mercato sale è una media composta che alza, ok? Se io ho questi portafogli, ad esempio l'aggacceleratore, che ormai lo seguiamo da tanto tempo insieme, ok? Sono persone che sono abbonate da anni, quindi lo seguiamo ogni mese per vedere il suo andamento, abbiamo visto che ci sono delle medie altissime, siamo su oltre il 30% all'anno, grazie poi ai risultati anche degli ultimi anni, 30% composto. Che cosa significa? Che quest'anno, se ho in questo momento, chiaramente stiamo valutando due settimane, i conti si fanno alla fine, ok? Alla fine dell'anno dovesse chiudere come adesso, significherà che il rendimento medio composto di questo fondo sarà un rendimento che non sarà più al 30% all'anno, ma sarà al 22%, ok? Benissimo, sarà al 22%, ma l'anno dopo continua, per cui l'anno dopo continuerà e ritorneremo sempre a creare una media che ci porti a dei risultati di un certo tipo, ai risultati che abbiamo precalcolato. Per cui come vedi, quando abbiamo questo orizzonte davanti, il risultato di breve incide molto di meno. Andiamo a vedere adesso ogni singola cosa, poi come gestirla in questo momento, quindi vi do delle indicazioni importanti. Guadagno immediato. Il guadagno immediato è un po' quello del breve termine, ok? Io voglio un guadagno immediato, voglio fare praticamente del trading, ok? Quindi le ultime due situazioni sono molto similari, voglio fare del trading, quindi voglio, le mie compravendite le voglio chiudere in brevissimo, voglio fare 500 euro al giorno, 500 euro al mese, 2000 euro al mese, quindi guadagno immediato. Qui vado a vedere neanche il... qua, come andiamo a vedere addirittura i rendimenti dei titoli non ci interessano per niente. Andiamo a vedere, questo mi ha generato, qui ho chiuso 500 euro in più, quest'altro 300 euro in più, poi non me ne frega niente se ha fatto una percentuale maggiore o una percentuale minore, ok? Io ho fatto questo movimento, mi ha fatto i soldi che volevo. Con una metodologia completamente diversa, con un orizzonte temporale molto diverso, il famoso time frame che si usa nei grafici, ok? Si guardano delle cose di più a stretto giro, ok? In questo momento, quindi, per chiunque abbia delle situazioni di lungo termine, potrebbe essere conveniente andare a, nel caso che domani, se non l'hai già fatto oggi, nel caso che il mercato in questo momento dovesse continuare questa situazione, potrebbe essere interessante andare, se hai anche dei titoli che ti hanno portato dei risultati, potrebbe essere interessante in questo specifico momento tornare liquido con una parte di questi titoli, perché in questi specifici frangenti, e chi ci segue da molti anni sa che sono i frangenti che paradossalmente ci lasciano più tranquilli. Io oggi, oggi pomeriggio, ho parlato un po' con gli allenatori, in maniera simpatica, perché in questo momento non sono, io ho un fondo di investimento per la pensione, anche io. Tra l'altro il mio è tutto azionario, perché non uso, non utilizzo altre strategie di copertura, come facciamo ad esempio con le persone che utilizzano i percorsi premium, ok? Quindi, pensate, dovrei essere, in questo momento non riuscirei neanche a fare la diretta, perché dovrei essere in crisi, ok? Ed invece ero molto più preoccupato per come possono vivere le persone in questo momento. Non per me, non per il mio fondo, io non sono preoccupato per niente. Il mio fondo, in questo momento, una delle strategie che può essere interessante per lungo termine di quello di poter, eventualmente. Nei nostri metodi di lungo termine, abbiamo pensato, seguido anche i metodi one time week, quando si rimangia un certo tipo di utile, un titolo può essere interessante, allora, bisogna vedere perché se lo sta rimangiando, se lo sta rimangiando per problematiche inerenti a quello specifico titolo, quella specifica azienda, se lo sta rimangiando perché il mercato è in turbolenza generica. Bene, in quel caso può essere interessante tornare liquido con una serie di quote. La liquidità in questo momento è molto importante. La liquidità ti permette di rientrare a sconto. Ti permette di, uno, proteggere. Due, rientrare a sconto. Avere una serie di opportunità che quando tutti scappano, il soggetto liquido entra e compra quei beni che gli altri svendono per scappare. Interessante. Chiaramente per il breve termine, e inutile dirti la strategia, il breve termine non è che stai lì ad aspettare. In breve termine si fanno delle operazioni che devono raggiungere un determinante tipo di risultato, a rialzo o a ribasso, quando nel momento si vende. La pensione. Come gestiamo in questo momento i fondi pensione. Allora, chiaramente devi aver scelto la linea più idonea alla tua anche emotività. Gran parte delle persone, e questo l'ho detto più volte nelle dirette, gran parte di noi, gran parte delle persone non sono in grado di sopportare, di tollerare dei lunghi periodi distorni. Non sono in grado di tollerarlo a livello psicologico, per cui devi sempre cercare una linea che sia idonea al tuo contesto. Il fondo pensione come può essere gestito e come viene gestito in questo momento? Chiaramente le cose sono molto semplici. Chi segue i nostri percorsi sa bene, perché se sei in un periodo di accumulazione, quindi tu stai facendo un'accumulazione per raggiungere un determinato tipo di risultato. Beh, sai, il periodo di accumulazione, qual è il periodo? Qual è il problema? Se tu in questo momento sei entrato su un mercato con il 30-40% delle tue quote e hai il 60% di liquidità da mettere dentro, io penso che dovevi proprio augurarti che succedesse una cosa del genere. Le persone che erano appena entrate da poco, all'inizio del 2020, avevano tutta la liquidità da buttare dentro e l'hanno buttata dentro durante la pandemia, cioè ragazzi oggi sono messe molto bene. Per cui le persone che sono in fase di accumulazione, bisogna vedere sempre in cosa fai i fondi, ok? Se sono degli evergreen, se sono dei titoli, se sono dei panieri che comunque non falliscono, sono situazioni, ecco, se investi delle azioni singole può essere interessante, ma devi valutarle diversamente. Quindi bisogna vedere qual è il sottostante che hai scelto, ma se il sottostante è un sottostante di un certo tipo, ma io direi che ti possono aprire delle porte molto migliori, anzi, se hai una liquidità ancora da inserire dentro, ma devi sperare che le cose vadano ancora peggio, onestamente. Io quando vedo questi momenti qua ho la bava alla bocca, nel senso che mi capita un po' l'effetto opposto. Una volta anch'io stavo in tensione, oggi quando vedo situazioni del genere dico, ma finalmente non aspettavo altro, ok? Sono due anni qua che non si aspetta altro che qualche suono che sia degno di essere chiamato tale. E quindi questo è per quanto riguarda le persone che sono in fase di accumulazione, ok? Le persone che invece hanno terminato, il loro fondo, è interessante perché questi fondi che vengono creati, sono stati creati poi, qualcuno potrebbe dire perché non avete creato i fondi con gli immobili, ma perché non avete creato con altri tipi di strumenti. Perché a noi piacciono gli strumenti che sono immediatamente liquidi. Che a liquidità in questo momento vince e il gestore, il buon gestore vince sempre. Ultima cosa su queste tipologie di investimenti, Totò diceva una cosa molto importante, è la somma che fa il totale. Rivediamoci, rivediamoci in fondo all'anno e poi ne riparliamo, ok? Non sto dicendo che il mercato guadagnerà alla fine dell'anno. Ma rivediamoci dopo e andiamo a vedere rispetto al mercato. Abbiamo visto che il mercato comanda sempre e vince sempre su tutto, anche a fronte di i crolli che ci sono stati nel corso degli anni, nel corso dei secoli, ok? Però anche a fronte di questo il mercato vince sempre e nel circa l'80% delle volte ha chiuso un rialzo, più o meno sono il 76, il 24, per il 24 delle volte ha chiuso un ribasso il mercato, nel corso degli anni, nel corso storicamente, ok? Andiamoci a rivedere alla fine, perché chi ha una strategia, chi ha una gestione, alla fine andiamo a vedere i conti, ok? E una cosa importante, chi ha i titoli buoni, i titoli buoni sono in preda alle onde, quando va bene sono titoli buoni, quando va male i titoli buoni, oggi, ieri, ieri, ieri e venerdì, i titoli buoni non ci sono, ok? Allora, obiettivo, rendimento fare più soldi qual è la plusvalenza da compravendite l'obiettivo è la pensione ognuno di questi casi devi guardare dei parametri diversi ok rendimento quindi guardi il rendimento io voglio fare voglio investire per avere un rendimento quindi più 10 più 12 più 15 più 20 più 20% più 30% questo è il rendimento voglio fare più compravendite quindi il rendimento non lo guardo guardo quanti soldi qui ho fatto 500 euro qui ne ho fatti 3.000 qui ne ho fatti 5.000 benissimo plusvalenza da compravendite breve termine oppure pensione pensione allora pensione beh devi guardare un parametro diverso non allora il parametro che devi guardare non è più il rendimento come il fare più soldi non guardi più il rendimento ma guardi i soldi nella pensione non guardi della pensione cioè non è che quando liquidi il fondo pensione all'assicurazione vai all'INPS beh quanto ha fatto quanto prendo ah cavo bene insomma ma negli anni ho fatto il 9% no no non vai a fare così col fondo pensione no il fondo pensione hai il fatto questo è il capitale questo è il risultato questo è quello che prendi mensilmente ok e la pensione che cosa vai a guardare vai a guardare l'obiettivo finale che è la media e il risultato che vuoi ottenere quindi la media composta che andrà a livellarsi sempre nel corso del tempo quindi non guardi più il rendimento dell'investimento rendimento perché io no aspetta ho investito due anni fa e quindi avevo fatto il 20 no ma poi si è rimangiato il 10 con il soldo poi ho fatto il 12 poi si è rimangiato il 9 perché io guardo il capitale ero partito 10 anni fa col capitale quindi in base è quello che ho messo 10 anni ecco questo fa parte del rendimento fa parte dell'investimento di lungo termine ok il fondo di pensionamento si guarda il livellamento della media ma lo impareremo nel corso del tempo e vedrete che non c'è niente che possa bloccare il raggiungimento di questo obiettivo proprio con una gestione mirata ok poi chiaramente ci sono delle linee di portafogli di investimento che sono più aggressive e quindi quelle che sono più aggressive è normale che un portafoglio che fa il 32% come quello dell'anno scorso i momenti di storno può storrare un po' di più rispetto a quello che ha fatto l'oemotion ha fatto il 15 lo storno è molto più piccolo ok molto più rapportato per cui devi avere anche una linea che sia rapportata con quello che è la tua il tuo obiettivo non dimenticarlo mai ok non dimenticare mai questi obiettivi non dimenticare mai che cosa guardare per ogni singolo investimento e avere sempre risultati straordinari sui mercati allora finisce qua la presentazione della serata e andiamo a vedere un attimino quelle che sono domande ok allora allora vendere chi ha allora vendere chi ha allora chi ha oggi c'è stata una segnalazione come sempre di quelli che sono i nostri premium chi ha i portafogli conclusi chi ha i portafogli conclusi segua tranquillamente le indicazioni benissimo ricordiamo sempre che il vostro obiettivo se parlate di pensione quanto avete calcolato con l'allenatore 11 anni 10 anni 8 anni 12 anni beh andiamo a vedere i conti là ok andiamo a vedere la media composta che andremo a creare nel corso del tempo chi ha avuto una media altissima l'anno scorso beh quest'anno si può permettere di abbassare non di perdere perché non si perde ok non si perde si abbassa la media ok ma non si perde perdere è quell'investimento dove cerchiamo di capirlo io compro l'azione di un'azienda che non vende più prendo la compagnia aerea che non vola più perché non guadagna scende 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 poi alla fine mette in liquidazione tutti mette tutti in cassa integrazione chiude la baracca ho perso tutti i soldi ok li ho persi ma nel caso e non ho potuto anche fare niente semmai perché hanno bloccato le azioni hanno bloccato le negoziazioni o semmai un'azienda non quotata non ho neanche capacità di intervento mi prendo tutta la parabola discendente quando ci sono dei titoli o ci sono degli evergreen beh allora onestamente basta arrivare a fare una buona che è successo che ho cliccato qualcosa ok basta andare a fare una buona gestione nel corso del tempo una buona gestione e in questo momento la buona gestione potrebbe essere interessante tornare in parte liquidi se i mercati dovessero continuare la discesa significa tornare un altro po' liquidi e sicuramente essere pronti e forti nei momenti di un certo tipo quando rientreremo come abbiamo fatto nel 2020 e dove nel 2020 il mercato se non ricordo male hanno fatto il 14 noi abbiamo fatto il 37 proprio quando c'è stato lo stormo più potente perché perché cambia la gestione ok il mercato non è non 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 ha il mercato per 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 come è concepito si prende tutto il meno 50 e poi torna su ok ma noi possiamo fare qualcosa di meglio del mercato il mercato è costretto a prendere tutto perché è lui stesso ok noi abbiamo la possibilità di avere una gestione di essere liquidi la liquidità in determinati momenti può comportare una serie di vantaggi tra cui la protezione e l'intervento in momenti semmai dove i saldi di fine stagione ci piacciono molto possiamo possiamo rientrare a sconto ok allora stessa cosa per chi ha programma beh allora il basic plus sono arrivate allora ragazzi il basic plus per chi fa le accumulazioni mensili sono arrivate gli alert eh il basic plus sono arrivate gli alert sia di acquisto di questo mese ok arriverà poi tra l'altro il primo del mese come sempre quindi sicuramente sono momenti idonei per l'accumulo allora che dice San Powell mercoledì ah Powell sì sì ok Carlo chiaramente dice allora quello che verrà detto allora in base a quello che dirà ci potranno essere delle movimentazioni di brevissimo termine ma anche qua bisogna vedere qual è l'orizzonte qual è l'obiettivo ok noi una volta al mese abbiamo fatto un intervento straordinario altrimenti una volta al mese noi facciamo un focus di economia e investimenti e andiamo a vedere un attimino come stanno andando le cose ma per dare un'indicazione alle persone ok un po' a scopo didattico per far vedere come viviamo in serenità il nostro fondo pensione anche quando lo vivevamo durante la pandemia che non si capiva sembrava dovesse crollare il mondo venisse la guerra delle guerre ok quindi per far vedere come si vive in serenità un fondo pensione a seconda di come uno l'ha voluto gestire mercoledì beh quello che dirà se dirà qualcosa che forse non interviene in maniera così corposa ma il mercato avrà uno strattone un po' più su il mercato sicuramente ha già scontato in questi giorni in maniera abbastanza corposa ha già scontato la notizia negativa o meglio una notizia che prevede la possibilità di di aumentare i tassi di interesse per cui l'inflazione sta veramente andando forte i prezzi stanno aumentando per le materie prime un po' la scusa le materie prime un po' è l'onda perché i commercianti un po' di tutto il mondo non hanno guadagnato molto durante i periodi è lì che piangono anche durante i saldi di fine stagione inevitabilmente zitti zitti tirano sui prezzi ok dando un po' la colpa a quello un po' la colpa a quell'altro ma da qualche parte devono riprendere e lo stato non dà nulla per cui inevitabilmente devono riprendere dai compratori ok quindi la matematica è presto fatta ok capital box capital box chi ha i piani di accumulazione direi che sono momenti sono momenti interessanti è un momento come oggi è un momento interessante ma era già interessante la settimana scorsa per cui se c'è accumulato la settimana scorsa benissimo puoi attendere anche il prossimo momento di accumulazione sono momenti di accumulazione assolutamente ragazzi eh assolutamente qualcuno mi immagino e mi ricordo durante la pandemia ma ci dici di accumula durante la pandemia il mercato crollava come oggi in maniera continuativa ma come ci dici di mettere soldi dentro sì vi dico di mettere soldi dentro assolutamente quindi per quanto riguarda l'accumulazione di rispondi mensili si accumula ragazzi allora lo sono 20-25% di utili generati si riferisce a ciascuna azione singola dei portafogli singoli nella sua globalità allora significa una persona che ha dei titoli azionari singoli quindi l'azione singola non panieri tipo gli etf può essere chi fa anche gli etf ma utilizza un investimento di lungo termine su un etf ma è un investimento di lungo termine può pensare in momenti come questi quando ci sono degli storni in cui ci si rimangia una parte di utili consistente quindi ci sono degli storni che cominciano ad essere un pochino pesantini di tornare liquidi può essere molto molto interessante per cui sì per quanto riguarda le azioni una volta che si rimangia una parte degli utili consistente si pensa ad andare a fare una riduzione ok sicuramente una riduzione ci sta poi se il mercato continua a andare giù ci sta intervenire un'altra riduzione fino a quando non si arriva ad avere un livello di liquidità che può essere interessante in base al capitale che abbiamo inserito ok sempre che questo se abbiamo dei titoli evergreen se abbiamo delle azioni singole le riduzioni sono molto più forti ok devono essere molto più forti molto più corpose molto più consistenti perché le azioni singole possono la singola può soffrire di più capital box l'accumulo deve essere graduale visto che non sappiamo come evolve il mercato no allora l'accumulo è già graduale perché l'accumulo è mensile per cui tu ogni mese accumuli se il mercato continua a scendere ogni mese fai l'accumulazione non è che tu oggi dici no aspetta questo è un gravissimo errore aspetta sta scendendo ma io prevedo che scenda di più quindi non accumulo no tu accumuli ok niente previsione le previsioni lasciamo ad altri tu accumuli e poi la quota mensile se scende accumuli ancora di più vai ancora avanti ok ma non è che non accumuli prevedendo che scenda ancora non lo so oggi andiamo a vedere come questa lì addirittura ha girato in positivo il mercato addirittura sta chiudendo in positivo ok quindi addirittura sta chiudendo in positivo quindi che fai non accumuli perché secondo te scende ancora può darsi che invece ci sia un'inversione e torni su vediamo vediamo ha fatto un bello storno uno storno interessante perché è tornato liquido la liquidità serve sempre per gestire anche perché se continuava a scendere era opportuno creare all'interno una strategia di protezione si riparte e si riparte con nuovi guadagni si riparte in base agli obiettivi che ci siamo prefissati nel tempo allora Massimo ma al di là della differenza tra lungo e termine penso la domanda è se abbiamo alcuni ETF che sono andati in rosso non dovremo comunque venderli per proteggere il capitale allora Massimo venderli dipende venderli dipende se sono degli ETF interessanti che chiaramente in questo momento non è che non sono più interessanti diciamo che c'è una turbolenza ma semmai quello specifico ETF lavora su un mercato che è interessante allora potrebbe essere interessante non vendere tutto per proteggere potrebbe essere interessante andare gradualmente a liquidare delle quote e avere una una cassa di liquidità dietro perché se io penso che quel titolo non è cattivo ok è semplicemente che diciamo così in questo momento sta subendo un po' la turbolenza ma questo titolo continua a essere cattivo quindi tu pensi che questo titolo che avevi scelto sia davvero buono allora puoi fare un po' di cassa di liquidità e pensare quando le situazioni quando la burrasca è un po' passata di rientrare a un prezzo più scontato per cui continuare a portare avanti la strategia ok vendere in tronco significa prevedere che ci sarà una situazione di questo tema in questo momento c'è una situazione diversa da quella della pandemia perché è vero c'è della paura ma nella pandemia c'era qualcosa di diverso c'era del panico del panico su un qualcosa che non si capiva qua c'è la paura che il mercato possa avere degli sbalzi sui tassi di interesse l'aumento dei tassi di interesse storicamente i tassi di interesse se andate a vedere lo storico dei mercati per chi li segue da tanto tempo ve lo dico io che li seguo da volte 23 anni gli storici di mercati sui tassi di interesse sono molto da valutare perché gli storici sui tassi di interesse ci sono stati sempre nei primissimi tempi quando venivano un po' non annunciati venivano ventilati nell'aria dopodiché nel termine più lungo poi sono stati diciamo così come posso dirti smaltiti in maniera molto veloce i tassi di interesse per cui è importante molto importante questa cosa ok è importante per capire che fare le previsioni allora il report potete inserire i codici allora i codici mi sembra che c'è l'alert gli alert arrivati mi sembra che i codici erano all'interno però scrivici e valutiamo mi sembra che ci fossero i codici all'interno ok allora dovrebbe essere singolo dovrebbe essere singolarmente sull'agenda accumuliamo ok adesso mi consigli di vendere o di accumulare allora Giorgio Urzi allora hai fatto il tuo 20 mila iniziando con un 25 anni con un piano di accumulazione allora il piano di accumulazione se sei arrivato a mettere tutti a 25 mila la la strategia è quella allora quando arrivi a un certo punto il piano di accumulazione a 25 sei ancora in un momento in un limbo che puoi decidere quanto stai mettendo al mese molto semplice guarda la strategia se metti 100 euro al mese che è poco inevitabilmente questi 100 euro potrebbero essere poco funzionali a creare una bella mediazione del del margine con i nostri metodi capital box formula del libro la pensione quando voi tu che ben conoscete se non lo conoscete andatelo a leggere perché è importantissimo in questo momento se la quota è un po' più consistente ma io direi che continui ad accumulare i risparmi mensili sto parlando dei risparmi mensili se tu invece hai i risparmi mensili e stai facendo un'altra quota quindi questo è un fondo di investimento allora puoi pensare di proteggerlo in maniera diversa ok se per caso stai continuando a mettere i tuoi risparmi mensili sono una cifra abbastanza consistente puoi continuare a inserire in questo momento anzi meglio allora Brunella buonasera perché il lungo termine mercato è destinato a salire grazie è destinato a salire Brunella per una situazione di economia l'economia cioè il mercato non è l'oro non è una valuta l'oro l'oro che cosa c'è c'è una compravendita c'è un mercato sotto no ci sono degli utili ci sono delle aziende che guadagnano no non c'è niente come non c'è niente in una valuta come non c'è niente in una criptovaluta cioè non puoi sapere ma il mercato è costituito da aziende le aziende fanno dei piani di crescita di innovazione di vendita aumentano gli utili aumentano i guadagni vendono di più diventano sempre più grandi l'amazon da botteghina diventa il più grande commerce del mondo poi sfrutta altre cose ecco ok questo processo porta inevitabilmente il mercato ad essere in un trend di crescita obbligata ok il mercato poi può essere un trend più o meno lungo può avere dei periodi di pausa più o meno lunghi ma nel lungo termine come andatura media come tendenza media è quella sempre del rialzo ok non ci sono attinuanti in particolare quando si parla delle più grandi aziende al mondo le aziende al mondo globalizzate che crescono ma non è che crescono nella botteghina che vende dietro l'angolo ma crescono perché vendono in tutto il mondo arrivano in tutto il mondo le amazon le google le mac donald le microsoft vendono in tutto il mondo quando iniziano una parte iniziano un'altra sono destinati a crescere e sono queste che pesano nei mercati e quindi hanno dei risultati e quindi avendo dei risultati nel corso del tempo porteranno una crescita maggiore allora per cui è un processo inevitabile ok ammetto ho anch'io Fabio anch'io ho un po' di colina in bocca eh sì sì quando si vedono queste cose qua insomma chi ha una buona gestione chi segue da tanto sa che sono situazioni importanti l'anno scorso non abbiamo vissuto situazioni del genere c'erano degli stormettini da mezza giornata ok e sono situazioni il mercato aveva necessità di fare una cosa del genere ve lo dico in maniera proprio molto molto naturale c'era bisogno c'era bisogno per il bene del mercato perché altrimenti più si andava avanti crescendo e più la botta dopo sarebbe stata più grande alla minima notizia strana quindi è bene che ci siano delle situazioni delle normalissime situazioni di mercato allora Fabrizio ma etf portafoglio non approfitti ma in perdita del 5-6% si esce lo stesso oppure si accumula allora eh solito discorso se è un portafoglio se è un portafoglio completamente chiuso si può liberare della liquidità si libera della liquidità si protegge per fare in modo che questa non ti preoccupare che questa liquidità non resta lì per niente la liquidità se il mercato scende ancora meglio hai protetto della liquidità che ha un valore e rientra dentro se il mercato ritorna su meglio sarebbe meglio che andassi giù proprio perché siamo liquidi se torna su rinseriremo la liquidità all'interno ritorniamo dentro e però abbiamo protetto perché se continuava a scendere se continuasse a scendere qualcuno potrebbe dire ma chi ha seguito nel 2020 durante la pandemia cavolo ma avete tagliato i portafogli ma poi al fine sono tornati su però se non vendevate era meglio sì ma non lo sapevamo se lo sapessimo beh allora cavolo se lo sappiamo siamo tutti ricchi ok se sappiamo cosa farà da qui a un anno siamo tutti ricchi ci buttiamo 7 miliardi dentro perché ci hanno detto che rialzano non è così ok quindi la prima cosa è la protezione la liquidità porta una protezione e la liquidità poi rientra sempre dentro quindi nel termine che ci siamo prefissati si arriva al risultato bene la tua disegnata panico e paura ottimo sì eh beh sì distinzione ma allora panico e paura e gestione una volta che una persona ha le idee chiare sulla gestione io una volta che non avevo un metodo di gestione mi impaurivo ero inteso oggi sono molto molto sereno ma perché c'è una gestione ok se non hai gestione scatta questa cosa scatta inevitabilmente nella piano di accumulazione si è già accumulato questo mese si può aggiungere il risonandamento del mercato un ulteriore accumulo certo perché no Pietro perché no certo una giornata come oggi non come ha chiuso mercati americani adesso i mercati americani sono tornati su hanno chiuso adesso hanno chiuso leggermente in rialzo ma partendo da un meno due e mezzo per cui direi che hanno che hanno fatto quasi tre punti di rialzo oggi perché partendo da bassissimo hanno quasi rialzato quindi hanno avuto un recupero molto forte però prima oggi era una giornata di accumulazione perché no certo è un grande grazie per gli spieghi in modo così comprensibile grazie Daniele presente ciao grazie a voi grazie a voi allora ragazzi direi che per questa serata mi siamo andati anche un po' fuori sarebbe da guardare anche allora è stata una serata come sempre importante interessante ho voluto far vedere un attivino anche come come si sta tranquilli come si può gestire in maniera molto molto serena l'andamento del mercato come si può vivere in serenità anche se abbiamo dei fondi che vogliamo portare per tutta la vita dietro e sfruttare per tutta la vita al massimo del risultato grazie a tutti ragazzi buonanotte e seguite come sempre in settimana per tante news tanti aggiornamenti ricordiamo la settimana prossima ci vediamo live lundi sera ma martedì amici parenti portate tutti i ragazzi al corso start sul pensionamento in replica chi l'ha visto poco riguardatelo altrimenti per chi è nuovo guardatevi il corso start di martedì prossimo con tante altre piccole news buonanotte a tutti ragazzi ciao a tutti e buona continuazione occhio e sfruttare al meglio in serenità questi momenti che dai quali sicuramente cercheremo di trarre come sempre il massimo ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti